Polizia! Mani in alto! Polizia! Non siete più semplici poliziotti adesso. Fate parte della Vega. Senti, ho un coltello! Senta, non c'è una sorta di quell'arma! Sfortunatamente non tutti ce la faranno. Che ci fai qui? Ragazzi, il pranzo è in tavola. Cosa è più importante per la Vega? La squadra. Polizia, apri la porta! Cazzo! Se dovessi però diventare un problema, dovrei sbatterti fuori esattamente come chiunque altro. Ho tutto sotto controllo! Non tutti gli agenti sono delle specie di Rambo come te. Sei un poliziotto, non un assistente sociale. Non siamo tutti uguali. Coraggioso da parte sua a venire qui. È stata legittima difesa. Mi stai facendo male! Come stai, Bursi? Basta, smettila! Vorrei aiutarti, ma non so come fare. Non ne ho bisogno. La vita non è un film d'azione. Capito, Rambo? Capito, Rambo? Capito, Rambo? Capito, Rambo? Grazie.